ma devi mettere la scena d'avanti ma devi mettere la scena d'avanti però penso che non è questa cosa è in pezzi ma devi mettere la scena d'avanti ma devi mettere la scena d'avanti ma devi mettere la scena d'avanti 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 Grazie. 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 Bravo, Vincenzo. Bravo, Giulio. Bravo, Pasquale. Bravo, Pasquale. Avete visto? Bravo, Giulio. Bravo, bravi. Bravo, bravi. Secondo e tre. Sì, è molto. Bravo, Giulio. Ci sono molto. Abbiamo messo a tre Hace. No, non è che. Non abbiamo messo un altro. Abbiamo messo un frango. Non è che sono un frango. Ho messo un frango. Io non ho messo un frango. Ho messo un frango con il appuntamento. Se svegli i banchetti, non ho messo un frango. questa è la mia zuchile il infine è stato fatto l'esercito E' tutto male E' tutto male e' tutto il rispondo T'lo giuro no, mezzo video non drava male ma poi tirava la sponda passava sempre per mezza passava Oh no la vols' Grazie a tutti. 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 Sì, sì. 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 Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.